Noi abbiamo chiesto alla regione di potenziare sia i tamponi che vengono fatti nelle scuole, ai ragazzi, ma anche appunto negli uffici, diciamo, nei lavori più sensibili, insomma, che vi sia una prevenzione, che funzioni meglio il tracciamento. Scuole chiuse, i ragazzi rimangono a casa, ma i loro genitori hanno diritto a permessi retribuiti al 50% solo se in zona rossa. In questi giorni però, su indicazione delle ASL, molti comuni stanno disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine grado, anche se l'Abruzzo è attualmente in zona gialla. Ci troviamo in una fase di regionalismo, in un livello istituzionale regionale che prende delle decisioni, ma queste decisioni non sono ben coordinate con il livello nazionale. E questo va sì che poi però rimetterci sono i genitori degli alunni le cui scuole vengono chiuse. Intanto l'anno scolastico prosegue tra le incertezze. Secondo una ricerca Unicef Cattolica sul primo lockdown, una famiglia italiana su tre non ha i mezzi per seguire la didattica a distanza. Per recuperare il tempo perso c'è chi chiede di prorogare l'anno scolastico. La CGL, che chiede di valutare caso per caso, solleva il problema del personale precario. Pensiamo che in Abruzzo abbiamo oltre 4.600 lavoratori precari nella scuola, quindi chiediamo che venga fatto anche un piano di assunzioni perché anche un potenziamento del sistema scolastico può avvenire aumentando gli organici delle scuole. Grazie. 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 Grazie.